Quando vi incontro per la prima volta non vi conosco ancora. Vi osservo partecipandomi malgrado alla vostra disperazione e al vostro dolore, chiedendomi realmente quale sia lo scopo della mia presenza. Io, un estraneo che su vostra chiamata, questo va precisato, invade quei momenti così intimi e profondi del vostro vissuto. Momenti che il sottoscritto ha provato sulla propria pelle, come tutti noi, amanti di questi angeli con la coda. Il motivo mi è chiaro solo quando alla fine vi congedate da noi. Sia chi con in mano un urna da custodire gelosamente entro le mura di casa, nelle quali Pilosetto in altra forma fa finalmente ritorno per sempre, sia chi allontanandosi volge indietro lo sguardo ancora un'ultima volta verso lo splendido giardino che è il fido custode, dove ha lasciato riposare le spoglie del suo caro, immaginando già un imminente ritorno. Il motivo, dicevo, sono i vostri sorrisi. La trasfigurazione dei vostri volti e delle vostre anime che sento lievemente più serena. Non sempre, è chiaro, sarebbe troppo bello, ma per la stragrande maggioranza delle volte noi del fido custode ci sentiamo avvolti dai vostri caldi e familiari abbracci di sincera gratitudine. Quel senso di pace ci accompagna dal primo all'ultimo istante della strada percorsa insieme a voi, alla ricerca del sorriso perduto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.